Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e benvenuto Davide Grittani da Io ci sto e benvenuto il pubblico che nonostante il meteo avverso ha avuto il coraggio di attraversare la città e di stare qui con noi. Io come sempre, buongiorno Alberto, voglio dire qualcosa sulla nostra libreria per chi non la conoscesse ancora, lo spiegavo anche prima chiacchierando con Davide noi siamo una realtà un po' particolare qui in città, siamo una libreria indipendente che è nata sette anni fa dal volere della gente che aveva visto un po' scomparire tutte le varie realtà del territorio e quindi per riunirsi attorno ad un'idea di cultura qui a Napoli ha deciso di unire le proprie forze e di aprire questa libreria. Siamo un'associazione di promozione sociale, quindi potete tranquillamente sostenerci come associandovi prima di tutto, la tessera vi darà anche una serie di benefici che poi vi diranno qui e soprattutto sentirvi parte di una realtà che fa cultura sul territorio siamo tutti volontari, quindi perdonateci se ogni tanto non siamo perfetti però facciamo le cose veramente con tanto amore, con tanta passione e con l'intenzione di arrivare agli altri, di stare con gli altri e io penso che oggi soprattutto dopo questo periodo così difficile che abbiamo attraversato avere ancora questa forza, questo impegno e questo desiderio sia un valore aggiunto per le persone ma per la comunità per quel senso di comunità che un po' abbiamo perso anche grazie all'isolamento forzato che abbiamo dovuto subire Ultima cosa ma importantissima domani mattina ci sarà una festa dalle 10 alle 13 è la festa per festeggiare il primo numero cartaceo della Librellula che è il giornale di informazione libraria creato dai soci di Ocistò in particolare dalla mente di Gigi Agnano e da tantissimi altri che collaborano questa bellissima rivista che si può ricevere gratuitamente scrivendosi alla newsletter ma da domani sarà materiale, cartacea perché? Perché crediamo ancora nel valore di fare anche le cose materialmente e forse mancava un po' questa voglia di avere ancora una rivista che parlasse di libri trovate tanti consigli, trovate recepzioni, interviste agli autori insomma è veramente una bella iniziativa ed è l'occasione per venire qui in libreria conoscere autori conoscere i soci le persone che ci lavorano e darle il vostro contributo anche proprio la vostra presenza in un'iniziativa bellissima in più ci facciamo gli auguri perché la presentazione di stamattina e la presentazione di oggi pomeriggio chiuderanno un periodo di eventi di presentazione ci riposiamo un po' anche noi e quindi seguiteci, seguiteci adesso, oggi e venite domani mattina detto questo io sono felicissima di presentare il libro di Davide Grittani La bambina dagli occhi d'oliva, Arcadia Editore con noi probabilmente ci raggiungerà anche Vanda Marasco e noi siamo qui quindi quando riesce siamo qui e siamo onorati e felici di averla con noi Allora, Davide, io leggo parecchi libri però alcune letture mi lasciano veramente un segno dopo quando chiudo il libro e io chiamo questo processo un ruminare le tue parole sono rimaste dentro a ruminare per parecchio tempo è una storia difficile da riassumere nel senso che voi trovate nella quarta di copertina la trama c'è questo signore a Roma lui è un personaggio molto particolare di cui poi vorrei tu dicessi qualcosa in più è un personaggio che non si riesce ad amare completamente o ad esserne infastiditi è come se io avessi creato un rapporto ambivalente con il tuo protagonista e questo signore ha un centro scommesse a Roma in una zona forse anche un po' diciamo difficile da vivere e da una mamma chiusa in una casa per anziani e quindi già diciamo il primo punto un po' a sfavore che così emotivamente ti mette un po' in difficoltà inizia a dire ma chissà perché questo ha messo la mamma là non se la tiene col seno ti incuriosisce Davide è uno scrittore di classe lo dico veramente senza ombra di dubbio perché entra in una tematica difficile che è quella della violenza sui bambini ma non è solo quella è quella della responsabilità morale degli adulti è quella della difficoltà di far emergere la verità è quella della difficoltà anche di raccontarcela di dirla a noi stessi la verità e lo fa con una cura attentissima della parola la scrittura di Davide è molto sorvegliata però non è mai fredda è una scrittura calda perché dico questo perché in alcuni punti Davide racconta la violenza e lo fa anche in maniera cruda posso dire proprio senza sconti per nessuno però io credo che sia una responsabilità della letteratura affrontare dei temi così con questa padronanza sicuramente dei mezzi ma anche questa a un certo punto questa distanza emotiva perché altrimenti se no non si può non si può raccontare si può parlare soltanto dei finali belli o delle cose consolatorie e lui invece riesce a farlo e questo mi ha conquistato io della trama ecco vi ho giusto buttato qualche seme perché ripeto la trovate anche dietro la quarta di copertina e vorrei che dicesse qualcosa all'autore vi raccomando questo libro perché è una lettura non solo bella non solo toccante un po' coinvolgente ma anche che ti trapassa in dei momenti ci sono dei passi veramente difficili ma sono ben inseriti nell'armonia proprio della narrazione ma anche perché è un libro che dopo vi farà ruminare come io uso dire la prima curiosità che io ho per Davide è di sapere come è nata come è nata l'idea di questo libro perché a noi fa piacere anche scoprire dove ci sono dei bravi autori come te e scoprire anche un po' proprio il cantiere come ti è nata quest'idea e anche come l'hai diciamo legata poi alla dedica iniziale del libro che è per una cantante perché c'è anche un'attenzione poi alla musica oltre che alle vite delle persone e questo è anche molto bello perché più delle volte la musica ci accompagna ci accompagna e ci riporta anche in luoghi della memoria prego Davide grazie intanto per essere per essere qua grazie per la fiducia e per aver sfidato diciamo così il mal tempo mi fa particolarmente piacere vedere anche le facce amiche insomma persone che rivedo con un estremo piacere io stavo già lavorando da tempo a tutta una serie di cose di documenti che avevano a che fare con la rimozione diciamo così volontaria e anche involontaria degli adulti nei confronti di quello che si commette contro o in danno dei bambini sia in maniera volontaria che involontaria è un tema che mi appassiona molto da sindacalista nel senso che sono padre di tre figli e poi da uomo da persona nel senso che mi incuriosisce molto questa idea autossolutoria che una società adultocentrica come dire assume su di sé senza nessun tribunale come dire l'idea di essere dispensata da qualsiasi giudizio no? rispetto poi a una a una a una a una missione che non c'è più che è quella di essere maestro di essere in qualche maniera come dire dei riferimenti degli esempi per l'infanzia e per l'adolescenza io stavo già lavorando a questo avevo dentro il chiuso diciamo così della bottega di cui scrive i miei piccoli come dire futili strumenti nel senso che mi stavo bombardando di una di un pezzo che mi serviva per scrivere quelle cose si chiama Zombie di dei Cranberries ed è un pezzo molto duro molto molto bello ritmato un quattro quarti pieno insomma una chi vi parla sostiene diciamo così in maniera credo anche assolutamente diciamo così banale è che la musica sia matematica pura nel senso che se fai il giro delle cose c'è la prova del no in ogni pezzo se riesce vuol dire che è matematica pura se non riesce qualcosa non va e quindi un algoritmo o qualcosa del genere mi devia su un'intervista della mamma di Dolores a proposito della morte della figlia avvenuta in circostanze non misteriosa non la buttiamo sempre nel mistero però insomma quando sento queste parole in inglese nel senso capisco che da quello che dice era successo qualcosa che io non conoscevo e dice che era tornata in qualche maniera nell'elemento naturale da cui era venuta cioè l'acqua in qualche modo vado a vedere le dinamiche della morte insomma tutta una serie di cose e io che pensavo di confrontarmi con la fine di una persona ho scoperto invece l'inizio di una persona e ho scoperto quello che lei ha passato durante l'infanzia e l'onascenza ed è una storia feroce terribile che si è ripetuta per otto anni consecutivi nel portone di fronte a casa sua e a questo processo diciamo così a questa via crucis a questo patibolo ce l'accompagnano i genitori non in maniera consensiente nel senso che non si sapeva quello che venisse in quel mondo e quindi ho capito che quello di cui mi stavo occupando era straordinariamente attinente sostanzialmente sovrapponibile a quello che stavo già scrivendo cioè nel senso che era esattamente questo cioè l'omissione non dico di controllo ma di responsabilità degli adulti nei confronti di quello che succede ai bambini e quindi avevo tutto questo in mano quando poi una specie di lampo di genio non so se chi scrive crede a queste cose io sì no diciamo dipende da come mi fa comodo diciamo in maniera piuttosto vile però sì nel tuo precedente del precedente romanzo a Roma ho l'onore la fortuna di conoscere Dario Argento e nel prostrarmi diciamo di fronte a questo maestro io la volevo ringraziare umilmente per quell'opera di filosofia che è Profondo Rosso non è un film d'orrore è un'opera di filosofia straordinaria e lui mi dice vieni qua senti e insomma mi racconta di questo episodio che i suoi biografi e esegeti insomma così ritengono sia la base dell'ispirazione di Profondo Rosso e cioè che nel 72 facendo dei lavori di ristrutturazione in un appartamento di via Crescenzio a Roma cioè nel cuore del Regione Prati a settimo piano che poi è il piano che ho scelto per ambientare questo romanzo tirano giù la carta da parati e scoprono il film mondo cioè in tutte le stanze dei disegni di bambini ad altezza di bambino ad ampiezza di bambino che raccontano di violenza di cose macabre indipendentemente diciamo così dalla matrice dei disegni lui me lo stava evidentemente raccontando perché chi di voi ha visto Profondo Rosso sa di quella scena e qui scorticando l'intonaco viene fuori il disegno eccetera eccetera ma lui mi stava dicendo anche un'altra cosa in qualche maniera mi stava dicendo che queste tracce di matrice catacombale che i bambini cercano di lasciare come dire in deposito delle ere in una specie di tramandando il loro passaggio diciamo nell'umanità hanno una missione straordinaria che noi ovviamente puntualmente ignoriamo e cioè l'idea dell'urgenza di trasferire un messaggio una codifica e quindi dentro questa codifica un'urgenza di essere ascoltati che noi puntualmente censuriamo in tutti i modi diciamo in alcuni casi con violenza in altri casi con semplicemente mancandogli di attenzione a cominciare da me perché ovviamente non sono né un padre né un uomo perfetto però questa idea della censura involontaria mi piaceva moltissimo più che per il fine del romanzo per raccontare quello che nemmeno noi sappiamo di fare ogni giorno e per sbozzare un po' diciamo così anche la l'attenzione facendo dei lavori nella casa in cui adesso vivo nella camera della bimba più piccola diciamo così tirando fuori tirando giù la carta da parati viene fuori una scritta meravigliosa che Giovanni ti amo e ti amerò per sempre che indipendentemente dall'ilasità che è suscita dice la stessa cosa io avevo urgenza di dire questa cosa al mondo e di dirla adesso e di dirla con questo mezzo e di lasciare un'impronta così forte nel mondo che nessuno la potesse cancellare perché dei muri non si cancella ecco che cos'era l'idea al centro del romanzo cioè cominciare col fatto che delle persone durante dei lavori scoprano un disegno la cui matrice è misteriosa la cui con ogni probabilità il cui esecutore è un bambino o una bambina e capire inseguendo che cos'è questo disegno che dentro delle istanze è venuto qualcosa qualcosa che ha a che fare con tutti i protagonisti di questo romanzo ma che soprattutto ha a che fare con quello che ci tenevo di più a dire e cioè che può sembrare ma mi auguro credo questo non è un romanzo sulla pedofilia in assoluto questo è un romanzo sui sensi di colpa un romanzo sui tarli più difficili da eliminare su queste azioni su queste viti che come dire che girano dentro di noi in eterno che hanno che non hanno una patologia specifica o che non hanno diciamo così che non presentano l'idea di di dover citare a un certo punto il conto di quello che abbiamo parlato ma ma che a un certo punto si si manifestano nella nostra strada nel nostro tempo nella nostra vita come come dei lampi improvvisi attraversano il nostro tempo sotto forma di una carta che salza durante il vento di una mattina di Coca-Cola vuota che ci taglia la strada cioè che hanno dei passaggi precisi dentro di noi che ci riconducono a delle domande se non avessi fatto questo se avessi fatto questo se non avessi se non mi fossi comportato in questo modo se avessi fatto quest'altra cosa ecco questa idea di non avere una una colpa maturata specifica e quindi come dire una specie di di letto di morte in qualche maniera da assistere ma un senso di colpa eterno che forse è anche peggiore che non ha che non ha un peso fisico ma che dentro di noi ha un modo di agire di lavorare molto più subito e molto più violento ecco io volevo scrivere un romanzo su questa cosa sulle colpe che gli adulti non sanno nemmeno di avere non sospettano di avere ma che invece hanno a cominciare ovviamente da me e che invece hanno in maniera drammatica per darvi un senso più che le parole diciamo così in qualche modo che possa riportare le mie parole a uno spettro diciamo civitare molto vicino a noi questa regione e quella inquidiva Puglia hanno dato l'esempio forse peggiore in assoluto in quanto a dimostrazione di coraggio chiudendo per 18 mesi le scuole una cosa che non è mai venuta diciamo così dal 1946 in poi interrompendo diciamo in qualche maniera il diritto costituzionale e l'istruzione ma soprattutto se posso permettervi di farvi notare questa cosa che sta proprio diciamo sia al centro di quello che voglio dire presentando il conto gigantesco di questa pandemia ai bambini cioè indipendentemente dalle cause ma gli unici chiamati a pagare un conto salatissimo sono stati i bambini indipendentemente dai ruoli della coppa per me era una cosa di cui di cui occuparsi ecco di cui sentivo l'esigenza nel mio piccolo nella mia inutile vita ma in qualche maniera di dare traccia è bellissima questa cosa che hai detto perché ci dà anche un po' il senso dello spessore che tu hai dato alla storia e ai personaggi Davide riesce a indagare veramente l'animo l'animo umano e lo fa anche creando una serie di personaggi che gravitano attorno che sono tutti significanti cioè sono tutti importanti per il lettore un'altra cosa che mi ha colpito è stata anche la scelta dei nomi io penso che la scelta dei nomi sia una cosa fondamentale per chi scrive quindi anche questo è una cosa che io ho notato la mamma la mamma del nostro Sandro vive in una in una casa per anziani che si chiama le nuove stagioni e già questo è bellissimo perché è come se lui volesse dire le nuove stagioni che sono quelle di un'altra dimensione dell'età un'altra dimensione esistenziale di rapporti è bello mi è piaciuta questa cosa io vorrei leggervi un pezzettino io ho scelto alcune parti alcune pillole per farvi anche un po' entrare un po' alla volta nell'atmosfera del libro di Davide senza però svelarvi troppo perché perché il tuo libro è un po' un po' fra lo psicologico e il sociale però è bello da leggere è bello da scoprire un po' alla volta quindi bisogna fare anche attenzione a non dire troppo vi leggo questo pezzetto perché si riallaccia alle prime cose che Davide ha detto e cioè l'appartamento è andare a scoprire qualcosa anche perché secondo me lui dà delle suggestioni e cioè i luoghi sono importanti poi sui luoghi vorrei tornare ma è davvero tutto perfetto come dice Farouk ci penso mentre lascio la nuove stagioni durante la strada che porto a casa e che percorro con il finestrino della macchina abbassato come se avessi bisogno di qualche schiaffo dovrei essere io a starmene sulle mie invece lo fa lui con una penentorietà che non so interpretare con un residuo di libertà su cui non riesco a mettere le mani che non riesco a comprare per questo provo disagio quando mi chiama signor Sandro per la stessa ragione per cui lo proverei se non mi chiamasse così perché non riesco a trovare il suo interruttore non riesco ad accenderlo come i clienti del winner continuo a pensarci ma non mi viene in mente niente sarà un fatto di caste di rispetto tra sceti sociali di consegne ancestrali a cui Farouk non intende rinunciare parcheggio apro il portone mi travolge un profumo magnetico la scia è stata appena dispersa nell'atrio in ascensore si avverte molto di più come se chi lo indossava provenisse dagli ultimi piani quindi ha dovuto trascorrere più tempo nell'abitacolo chi sarà? in questo palazzo vivono solo anziani a parte me a nessun altro verrebbe in mente di venirsi a tumulare in questo cimitero per vivi normalmente le pareti del condominio traspirano solo naftalina trattengono sospetti e rilasciano muffa invece questo profumo così dozzinale e fertile sembra suggerire che qualcuno più felice di me è stato qui allora torniamo alle pareti torniamo al condominio e qui siamo solo a pagina 19 e già no l'autore butta il seme perché crea anche un'atmosfera di mistero il profumo è dozzinale fertile perché è dozzinale fertile e di chi sarà è un personaggio femminile che entra è dirompente nella vita di Sandro e nella storia se ci vuoi dire qualcosa di questa abertura tanto grazie quando sono stato a visitare luoghi chi scrive fa questo nel senso fa dei sopralluoghi chi gira si rende conto dei posti fisici che vuole raccontare ho trovato questa città che nel libro non nomino mai ed è un segno secondo me di rispetto nei confronti di questa città che è riconoscibilissima che è Roma ma non nomino mai non la cito mai quasi per pudore quindi perché bisogna avere rispetto di una città così offesa secondo me e ho visto questi posti straordinari storici questi palazzi giganteschi questi edifici storici abbastanza vilipesi della modernità nel senso completamente addobbati diciamo così di rivenditorie di qualsiasi diciamo ammennicolo cose così insomma di indiani pakistani il punto non era diciamo così questo incrocio di razze il punto era la perdita di identità di un posto a favore di nessuna identità in qualche maniera come se posso buttarla così quello che sta avvenendo la politica adesso tutti insieme perché nessuno stia insieme l'importante è dare confusione perché se si dà un senso di chiarezza si perdono voti più si confusi meglio è e questa idea di commistione a me pariva chiarissimo posso salutare questa donna a me pariva chiarissimo grazie per essere qua benvenuta Amanda grazie come sta tua figlia? come sta tua figlia? poi me lo dici vabbè accomodati Amanda ecco aspettavamo Amanda Marasco con noi siamo siamo molto contenti di averti grazie io volevo almeno farmi vedere perché no no ma farai di più perché abbiamo iniziato da un po' ma c'è c'è tempo quindi finisco questa cosa e poi posso è la cosa di cui mi sono reso conto immediatamente che dentro i centri di queste città anche Napoli anche venendoci come ho visto c'è questa commissione davvero interessante che vi riguarda che ci riguarda mi riguarda per tutto perché dentro proprio i posti storici ci sono alle basi nelle piazze di questi centri scommesse straordinari meravigliosi diciamo così in cui il mondo sembra a portata di qualsiasi cosa e che mettono insieme ceti sociali persone e razze che normalmente non avrebbero niente da dirsi è una specie di dimostrazione pratica l'ho avuto quando sono entrato in questi posti perché per doverci scrivere in qualche maniera li ho affrontati e loro mi hanno sgamato immediatamente cioè nel senso era una specie di appendice si sono accorti immediatamente che ero lì per spiare per guardare e non per giocare non per empatizzare con la loro idea di destino cioè gioco sul gol di ronaldo e cambio la mia vita ma di ronaldo mi interessa fino a un certo punto cioè sì vivo un dolore in famiglia diciamo fermiamoci qui fermiamoci qui e quindi quindi come dire c'erano queste masse tettoniche proprio di persone che entrate in conflitto tra loro indipendentemente da quello che avevano da dirsi spostavano proprio pezzi di destino in maniera incrociata c'è persone che passavano 18 ore lì dentro che andavano a prendersi le moglie alle 11 e mezzo che in un giorno e mezzo spendono il loro stipendio per questa cosa cioè mentre noi incrociamo questi lati della vita esistono queste specie di destini appesi come grucce che attendono una qualche interpretazione che poi non arriva ovviamente e ho pensato che quello fosse il posto preciso del romanzo cioè che quello fosse il posto in cui il romanzo dovrebbe diventare perché questa idea di destino sospeso che nessuno va a reclamare che nessuno va a riprendersi interessava molto proprio per il tipo di fretta che abbiamo di passare davanti alle cose alle persone senza accorgerci di loro dico sempre nella certezza della mia nullità che indipendentemente dei romanzi di questa donna straordinaria o comunque dalle prove narrative che hanno una idea di insieme molto robusta la narrativa contemporanea italiana ci ha abituato a una cosa alla più umiliante delle lezioni americane cioè show don't tell devi dimostrare punto non raccontare non perdiamo molto tempo dentro questa lezione di velocità e di idea unidimensionale del racconto voi vi perdete e noi ci perdiamo la cosa più grande che per me uno scrittore può fare e fateci caso ciascuno di voi attraversando un incrocio banalissimo diciamo di una strada di una città scrive un romanzo insieme a infinite altre persone incrociando medici incrociando operatori di televisione incrociando scrittori incrociando scrive contribuisce a scrivere delle pagine della propria e di altre vite in maniera costante e continua lo scrittore che lascia che questi pesci escano fuori dalla sua rete e che in qualche maniera impercettibilmente non riesce a intercettare le loro vite quindi i loro interessi i loro destini in qualche maniera perde tutto quello che sta intorno cioè si occupa soltanto di questa missione unidimensionale cioè di portare il racconto alla fine e di assolvere una specie di missione questo è giornalismo narrativo un'altra cosa letteratura un'altra cosa chi perde chi perde il senso di quello che sta facendo della sua missione siamo noi e di conseguenza chi legge dentro questo romanzo c'è mi sono sforzato di ospitare una specie di incrocio di questi destini di queste cose e metterli all'interno di una di una ricevitoria scommessa era l'idea di raccattare questa questa varissima umanità molto feroce in alcuni casi anche e di portarla a una specie di compimento che io ritenevo utile per la descrizione del romanzo ora però vorrei che banda che ci ha raggiunto dicesse leggo un pezzettino che anche perché mi hai dato l'assist con questa con questa cosa che hai detto sull'incrocio delle esistenze e anche sul fatto proprio di sentirsi una parte del tutto e questo ti fa un po' venire fuori da quella condizione di individualità spinta a cui siamo sottoposti oramai una pressione continua che alla fine esaspera qualsiasi cosa qualsiasi dimensione emotiva perché ti fa sentire speciale ma in senso negativo invece di farti sentire nell'umano e proprio quell'incrocio di destini di cui tu parli e quello che poi dà il senso alle esistenze Davide è anche un po' filosofo nel suo raccontare questo mi piace sì meno male perché ci aiuta dopo io dico ci sono delle letture che ti lasciano la gradevolezza poi chiudi e continui a vivere poi ci sono delle letture che ti lasciano là a elaborare e che ti nutrono il dubbio e se ti nutrono il dubbio vuol dire che hanno fatto un buon lavoro io leggo questo pezzettino e poi passo a banda la parola lo leggo perché è bello e si riallaccia non ci eravamo messi d'accordo però si riallaccia molto a quello che tu hai detto sulle esistenze che si incruciano facciamo la strada al contrario scansando i palloncini della festa aggirando le colline di coriandoli che a nulla servono se non a perimetrare brevi gioie a ricordarci che la felicità al massimo si noleggia all'uscita dalle nuove stagioni Angelica chiama un taxi destinato all'altra parte della città io torno al winner a piedi sembriamo sopravvissuti a un frullatore barcogliamo ma gli angoli del ring ci impediscono di cadere precipitati in un buco nero che non riesce a mentire vorrei non averla incontrata questa sconoscienza che sembra così vecchia d'aver già abitato nelle case di tutti vorrei non averla incrociata questa straniera che ha viaggiato così tanto da conoscere i passaporti delle persone a me vicine perché vi giri intorno cosa vuoi da me arriva il taxi il tempo di salirci e tornare inafferrabile lontana di nuovo un traguardo così come spaventano le vite sconosciute sono le sole alle quali possiamo chiedere la verità è stato un assaggio della lingua penso che arrivi la voce è stato un assaggio della lingua di Davide di Davide Grittani la prima la prima cosa la prima potenza la prima dimensione che personalmente mi attrae quando comincio a leggere un libro è proprio la lingua voglio dire la cifra stilistica voglio dire la potenza lessicale voglio dire le volizioni lessicali tutto ciò diciamo che è che ha la capacità che ha la forza di creare il corpo la voce del narratore naturalmente che è il conduttore no? è un magnetico e che poi dovrebbe attraverso l'architettura del romanzo la sensibilità e i pensieri che si mettono in gioco nutrire creare e la condensa e la materia dei personaggi che sono indimenticabili in questo libro dopo il primo impatto appunto con una lingua che è letteraria pur essendo moderna perché della modernità a che cosa ha le nostre i nostri guizzi le nostre cadute le domande non c'è non c'è retorica non c'è non c'è enfati va dritto alla mente al cuore no? la prate il periodo e mi sono trovata di fronte a personaggi che mi si scoltivano mi si scoltivano dentro io non li ho dimenticati ormai sono mesi che ho terminato la lettura di questi personaggi ma tanto lui diciamo come si chiama il nome il nome è forse Sandro Tanzi esatto quanto la donna e gli altri io non li ho dimenticati sono scolpiti dentro di me e perché? perché nel testo di Grittani avviene quello che dovrebbe avvenire per ogni testo degno di essere chiamato testo letterale lingue dicevamo cifra stilistica sicuramente una storia che sia capace di essere universale e perdonatemi la banalità ma di parlare anche a tutti quella che Bon o non so come dire Fofi in un intervento a Torino alla fiera del libro quella frase che Totti pronunciò e che ci riporta a quest'altro problema in un romanzo se non c'è inquietudine filototica un pizzico chiamatelo come volete di poesia nel senso della specchiatura no? dell'umanità nelle sue serie come nelle sue illusioni nelle sue tensioni non c'è romanzo più anticamente parlavano di Weltanschauung cioè una concezione della vita che ne penso che ne penso della morte scusatemi questi termini molto diretti anche domestici che ne penso della vita che ne penso della morte che ne penso della malattia che ne penso della corruzione se non viene fuori questo e altro ancora ma perché leggerlo mi leggo una storiella ben congegnata carina che alla fine non mi lascia non mi lascia altro non mi ha fatto compagnia non è stata attensiva insieme a me insieme alle domande che ci facciamo e per le quali qualche volta ci definiamo vediamo definiti esseri umani e una cosa importantissima certo dallo Stoyeste a Kafka gli inferni inferni della condizione della condizione umana sono stati analizzati ed espetti grandiosamente e noi continueremo ad andare dietro in qualche modo a queste lezioni e nel romanzo di Davide io vedo voi parlavate di intreccio di destini ma sono destini che si incontrano perché vengono già da un inferno semi consapevoli e nel momento in cui si riconoscono e nel momento in cui cozzano fra di loro si intersecano in qualche modo si confrontano eccetera è l'inferno pieno che ciascuno porta in uno smusi completa di carattere psicologico e che dalla psiche va alla storia va alla città va a quel luogo la sala giochi la casa la casa di sopra e si crea e si crea veramente abbiamo veramente la dimensione del romanzo che non imita falsamente la vita ma ne è un prodotto come è un prodotto delle letture fiamate del pensiero della capacità creativa della capacità creativa di Davide l'ho trovato eccezionale ed è per questo che sono qui naturalmente non ci sono qui persone che sanno che io mi muovo con molta difficoltà è rarissimo è rarissimo è rarissimo è forse che ne so è stata forse la seconda volta ma per testi come questo Dio Santo che veramente fondano la letteratura danno un senso all'opera all'opera scritta e sono venuta a dirgli queste poche parole la capacità destrittiva è enorme l'introspezione ripeto psicologica è veramente profondissima la pieta è passante perché nell'anferra per l'inferno umano la scrittura di Grittani come dire ci consegna anche una non voglio usare parole molto molto religiose ma un tipo di attenzione misericordiosa compassionevole si che raccoglie tutti in un cammino che dove va verso la verità no lo sanno tant'è che il testo è anche pieno di negazioni questa cosa è così però non è così no come ha detto dell'altra parte in un infezio è straordinario l'intreccio straordinario vi avete parlato un po' della trama ma sicuramente straordinario l'intreccio ma mi ripeto affascinante la maniera in cui la lingua e le cose che ho tentato di tentarli così vi trascineranno dentro lo chiuderete alla fine ma non sarà ancora finito non sarà ancora finito perché avrà una capacità straordinaria di parlarvi a lungo che altro devo dire sono impreparata per il momento questo evento che non vi immaginate davvero hai detto hai detto hai detto benissimo e quest'ultima cosa che hai detto all'inizio io nel mio piccolo da lettrici attenta ho detto ci sono dei romanzi che restano a ruminare dentro questo è un romanzo che resta a ruminare parecchio parecchio per i personaggi per l'atmosfera per l'indagine e anche per andare un po' a erodere certe piccole certezze di cui pensiamo di poter vivere di poterci infatti io volutamente non ho parlato di Noir ma tu hai detto il termine preciso l'indagine l'inchiesta ma quando mai c'è stato un grande libro privo dell'inchiesta dal teatro greco no? ai Noir attuali terminiamo come insieme no? noi non non vediamo ma un vero romanzo è sempre un'inchiesta di tipo drammatico che non tragico no? che ci porrà di fronte a delle agnizioni dentro la sisse eh? a riconoscere delle cose e questa è un'altra delle linee dei classici che io individuavo nel romanzo di Davide per essendo così moderno l'orientazione ovviamente moderna come era già e questa è una cosa straordinaria l'inchiesta proprio come principio drammaturgico che deve riguardare anche il romanzo sì e questo mantiene anche la tensione alta che non è una tensione di superficie no? è una tensione di profondità e quindi il lettore o perlomeno il lettore un po' più esigente il lettore attento coglie questa tensione e la sente e la sente e qui secondo me c'è anche la maestria del ritmo tu hai parlato molto dello stile sicuramente anche della scelta lessicale ma anche proprio del livello letterario della lingua di Davide io direi anche del ritmo perché Davide alterna delle pagine molto dirette molto scarme che non fanno sconti che dicono proprio la verità e che sono necessarie poi all'economia proprio del racconto ad alcuni passi altamente poetici delle frasi che ti avvolgono e veramente ti danno proprio la poesia dell'esistenza perché c'è l'inferno ma c'è anche nel momento costudire l'umano attraverso lui tende a costudire l'umano attraversando questo inferno narrandoci questo inferno e quindi è logico che gli venisse del tutto come dire spontaneo usare anche la dimensione povera ti posso portare a casa che se ogni tanto ve la dici non te la chiedo se la ripeti tu dopo ti rivedi la diretta ogni volta che ne hai bisogno ricordavo ricordavo pochi giorni fa perché mi serviva non è che abbia la memoria così fresca quindi non vanto non vanto una citazione ho dovuto prendere un attimo riprendere la strada di Suan Proust perché cercava una cosa e a un certo punto Proust ricorda il modo che la madre aveva di leggere i romanzi mi pare proprio di Georges Sand e parla del ritmo che la madre dava alla lettura alla lettura ed è una cosa importante ora qui siamo siamo in un esempio che ci dice voce che sposa il testo ma Proust ovviamente in maniera sotterranea ci dice altro ci dice e come dava malinconia all'imperfetto e al passato dei mondi e poi dava audacia al presente e al futuro è bellissimo 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 ed è quello che diceva lei se uno scrittore non lavora artigianalmente anche al ritmo è come si ha la forma ma ti perde poi ti perde un po' per la strada quando leggi io pensavo anche a come questo ce l'hanno insegnato anche molto le favole no? è Francesca è Francesca la letteratura canta e così ha bisogno sia dei toni sia delle pause che sono importanti sia di più ma nella narrativa sono importanti e quindi quello che lui riesce a utilizzare è proprio questo equilibrio e i momenti di poesia arrivano come una carezza mentre tu stai leggendo e quindi hai quei momenti in cui ti schiaffeggia con la verità della storia no? la vedi cruda la senti questa storia cruda sulla pelle e poi arriva quel momento di poesia che indubbiamente come tu dicevi Wanda fa parte dell'umano che ogni tanto dobbiamo riascoltare però Wanda ha detto una parola magica riportando Proust e non ci siamo messi d'accordo vedi si creano con gli incroci magici di cui Davide ci parla è nominato la memoria questo è anche un libro molto importante per la dimensione della memoria dei ricordi c'è qualcosa che dobbiamo eliminare togliere cancellare c'è qualcosa che dobbiamo mantenere e c'è sempre questo doppio movimento in noi nella nostra vita così come nella letteratura Davide io credo di sì nel senso che è un romanzo che lavora molto sulla rimozione diciamo così delle cose che in qualche maniera vogliamo o pretendiamo che non ci appartengano più però queste cose proprio perché come dire prescindono dalla nostra volontà ci rimangono ci restano attaccati addosso e questo è un romanzo che parla soprattutto delle cose attaccate addosso come 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 i frutti di mare in qualche maniera che restano sporchi anche se li laviamo tutte le volte possibili e dentro quei residui diciamo di sporcizia c'è proprio come dire per quanto noi per quanto a noi puristi diciamo così soprattutto occidentali non ci faccia piacere dentro quella sporcizia c'è invece la vera essenza della nostra vita cioè se ci specchiassimo un po' più di queste cose forse riusciremmo a capirla anche un po' meglio questo romanzo che è lavoro sulla memoria ma che non ne non ne diventa schiavo nel senso che attraverso la memoria cerca di capire quali sono le possibilità di sopravvivenza ecco a me piace molto una cosa oltre alle cose straordinarie che terrò per tutta la vita di chi mi c'è dicendo Wanda una cosa che mi ha detto Furio Colombo su questo romanzo e che a beneficio diciamo così dei medici in sala che è un romanzo a rilascio lento come le molecole dei farmaci che agiscono diciamo dopo che le prese e dopo un po' dopo 5-6 giorni cominciano a dare loro effetto e questa cosa mi sembra in un mondo letterario che vive diciamo di morti e fuggi mi sembra nel mio piccolo e utilissimo diciamo si presenza nel mondo editoriale mi sembra una bella testimonianza di quello che volevo fare e poi una piccolissima cosa che non è una specie di raccomandazione che però mi sento di fare in tutte le presentazioni e soprattutto in questa a cui tenevo molto per ovvie ragioni per Francesca per Wanda e per voi siamo nelle condizioni paradossali diciamo così di dover in qualche maniera non dico giustificare e anche questo approccio diciamo quello che vi sto dicendo è un po' imbarazzante però io confido molto alla vostra intelligenza ma di dover in qualche maniera motivare alcune audace ed è questa non abbiate paura se posso permettervi di libri come questo cioè nel senso non abbiate paura di libri che vi tirano in faccia la verità perché se un libro non vi tira in faccia la verità forse non è forse avete speso male i vostri soldi ecco da un punto di vista proprio meramente che cosa intendo dire intendo dire che dentro quei libri che vi danno cazzottoni giganteschi c'è molto di più e con estrema consapevolezza quello che forse tutti i canali normali tutte le fonti di informazione che avete non vi dicono per una serie di ragioni e cito sempre due esempi che mi paiono calzanti magari ce ne sono molti altri più adeguati però mi viene a dire questo aiutami se te ne vengono altri nel 94 esce in Italia un libro che si chiama Il branco di Andrea Carraro che racconta di un stupore gruppo di due ragazze tedesche alle porte di Roma perché è importante perché il magazine Anna raccoglie 854 mila firme per cambiare una legge che in questo paese civile rappresentava lo stupore come un reato contro la morale e non contro la persona un romanzo in buona sostanza cambia le sorti diciamo così quella legge torna in Parlamento e diventa un'altra cosa è un modo per dirvi che i libri arrivano prima i libri leggono la vita prima ve la sottopongono e vi testimoniano un cambiamento delle cose prima molto prima della televisione infinitamente prima del cinema moltissimo prima delle mode delle cose i libri vi dicono prima quello che avviene nella vita nel 56 esce una vita violenta e a un certo punto una serie diciamo così di mente di cervelli dicono forse questa idea della borghesia tutto da un lato e del popolo tutto dall'altro in urbanistica non serve più e quindi l'edilizia residenziale forse che mescola le cose le può migliorare il primo piano regolatore di Roma di Rutelli in qualche maniera cambia completamente le cose e mischia il popolo l'ha fatto un romanzo un romanzo che è stato censurato per dieci volte e poi come dire è diventato un classico della letteratura italiana e ovviamente nessun paragone rispetto a questo vi scongiuro non era questo come dire l'ambizione nel caso in cui vi ha trainteso ve li chiedo scusa era solo un modo per dire e per giustificare in qualche modo di non avere paura di libri non dico impegnati ma che in qualche maniera passano diciamo così il cordone di vigilanza del buon pensiero italico italiano se un libro non vi prende schiaffi non è un non avete fatto diciamo c'è un grandissimo acquisto se invece vi lascia una specie di inquietudine quella quale è continuato per i conti per uno due tre giorni probabile che l'autore abbia in qualche maniera diciamo così interpretato un'esigenza un modo un tempo deve scorticare un po' quella parete come scorticano i tuoi protagonisti e da questo punto di vista dirlo accanto diciamo così a una filanista dello strega che in quello strega andava come dire proprio anzi a turbare diciamo così la mia Repubblica rispetto a una serie di cose mi fa infinitamente piacere soprattutto perché ci ho messo un po' l'ho fatto un po' di fatica ma è passata l'idea che non sia un romanzo sulla pedofilia ma su quello sull'idea molto comune molto più comune di quanto pensiate che serva per sopravvivere e girarsi per forza dall'altra parte invece da un punto di vista proprio di attenzione al mondo se dovessi assistere non mi è mai successo sono stato un cronista ma non mi è mai successo se dovessi assistere a un delitto nell'esatto istante in cui avviene va bene diciamo così va bene la parte la parte fisica di chi commette a mente che sa moltissimo l'aspetto di chi guarda e non fa infinitamente di più interesse perché lo ritengo da un punto di vista del mio modo di intendere la vita e l'etica in esso contenuta molto più grave di chi spara infinitamente più grave di chi spara ecco questo Davide questo è una cosa molto importante che io vorrei rilanciare a te a banda non è solo una questione di giustificare o meno un certo tipo di libri e di letteratura è proprio restituire una responsabilità alla letteratura alle parole ecco e quindi diciamola proprio restituire la responsabilità e restituendo quel tipo di responsabilità alla letteratura perché le parole le storie sono importanti noi diciamo molto più di quello che c'è in una storia restituisce anche un senso di responsabilità di etica all'individuo e questa è una cosa che tu hai detto è importantissima è una parola che vorrei sentire te e il banda su questa ultima diciamo suggestione io ho fatto dal nulla che sono e rappresento un piccolo intervento di cui fare night radio 3 rappresentando il libro e mi è venuta a dire una cosa che per me è abbastanza normale cioè che io credo siano maturi i tempi affinché l'editoria in genere e gli autori recuperino un po' dell'etica della loro missione e del senso della loro missione e la riportino in qualche maniera dentro questo dentro questo mondo straordinario meraviglioso non proprio iliaco ve lo garantisco che è l'editoria laddove non intendo una specie di censura di sbarramento di gradimento rispetto a libri di evasione no assolutamente non è questo ma l'idea che di deroga in deroga di licenza in licenza di sopportazione in sopportazione Luigi Altizzetto diventi un filosofo al posto di Umberto Eco è una cosa che fa male innanzitutto a voi e in generale in generale indebolisce un'idea di paese di pensiero cioè di deroga in deroga persone che vedete come dire il sabato sera a ballare diventano romanzieri va bene tutto come dire in un'idea di un paese libero va bene tutto quello che sento di dire da un punto di vista proprio autoriale e quindi di persona che ci mette la faccia è che questa idea di diventere molle fa male a tutti indebolisce tutti e indebolisce un pensiero aggregato rispetto al quale stravince in maniera inusitato il pensiero facile l'idea che la storiella è storiella punto e basta vi do un dato rispetto a quello che tento di tradurre in parole abbiamo fatto un conto lo dicevamo prima con Francesco con un mio caro amico che si chiama Marco Vicchi del panorama commissariale dell'editoria italiana sono 321 i protagonisti tra commissari questori vice questori certe narrativi italiani 321 io non so se abbiamo un altro come dire un dato uguale in qualsiasi altra narrativa del mondo però è un'idea non dico della deriva ma della comodità con cui diciamo ci stanno accompagnando un certo tipo di letture l'idea non è a ribellarsi ma a recuperare un bel po' di etica rispetto a questo fatevi una domanda se autori riescono a pubblicare tre romanzi in un anno e fatevi una domanda se invece un altro autore ce ne mette sette per pubblicare in un anno ma non perché come dire salsa da mattina fa altro di mestiere perché forse ha delle forse ha delle forse ha delle tabelle di lavoro interiore che sono infinitamente più rispettose della vostra opinione più che di quella del ecco te ne vuol dire grazie 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 non si può aggiungere tanto di più voi apparentemente qui siete pochi ma io spero che possiate diventare una cellula di trasmissione e portare a vostri amici e a vostri conoscenti l'esperienza di lettura di questo libro che merita veramente di espandersi di essere conosciuto quanto a quello che diceva Davide non posso tanto esprimermi perché sono sono in un periodo di vita in cui per me il gesto della scrittura sta diventando sempre più non abbiate paura religioso ma nel senso della religiosità neopardiana liturgiana sì e quindi non non voglio adesso appesantirvi e sediarvi con una mia natura in questo momento con una mia predisposizione in questo momento l'etica l'etica è l'atto creativo ma dovrebbero essere congiunti come lo sono stati anche nei più folli e più maligni e più incattiviti artisti dovrebbe essere congiunta dall'inizio fin dall'inizio approssimarsi all'opera le due cose non dovrebbero essere disgiunte disgiunte perché? perché c'è una sorta di tenaccia che chiamerei persino fede nel lavoro poi c'è un'attesa un'immensa paura di non farcela di aver sbagliato un investimento anche emotivo molto pronto un investimento emotivo vengano amati inseguiti perché quello è il libro che somiglia a ciò che io stesso potrei fare a quello che è più prossimo a quello che è più vicino a me come mie possibilità come mio mondo espressivo come mia esperienza come mia capacità di comprendere anche di cogliere che errore stanno passando per capolavoro avete notato che si dice di ogni libro capolavoro capolavoro indispensabile noi non stiamo dicendo che il suo e il mio sono capolavori io non l'ho detto non lo dirò mai perché occorrono perlomeno 50 anni di storia di distanziazione tranne alcuni casi felici che sono stati riconosciuti come capolavori quasi subito ma occorre anche in questa confusione assolutamente ma dico che se c'è un romanzo che è un romanzo che appartiene alla letteratura che fonde la letteratura questo lo è un romanzo che non tutti né il calciatore né la mia vicina di casa né io né l'attrice né le... avrebbero saputo scrivere e lo riconosco che sono onesta quanto onesto è stato lo scrittore nel momento in cui ha cominciato e ha sentito la responsabilità di consegnarci qualche cosa di necessario per se stesso e che poi ha ritenuto forse per ritarsi un'esistenza anche se andiamo grazie sono d'accordo Vanda e sono d'accordo con voi sul discorso della responsabilità e in aggiunta direi prendiamoci tutti la responsabilità di scegliere perché anche questo è importante un po' più di di critica di coraggio perché se va bene tutto va bene tutto e diventa tutto uguale se invece noi ci prendiamo proprio quella responsabilità di scegliere di dire questo sì questo no questo per me va bene questo non va bene forse riusciamo a partecipare a quest'idea di etica di responsabilità io non so se ci sono domande curiosità approfittate perché stiamo chiudendo perché qui c'è un autore bravissimo c'è un'altra autrice eccezionale potete comprare i libri di entrambi approfittate ci sono curiosità domande sono un po' emozionato in questo momento sì non ti preoccupare ti vogliamo bene anche con l'emozione ma l'emozione è una cosa positiva perché mentalizza una emozione sì sono emozionato perché sono molto ammirato davanti a malasco quindi vedi che responsabilità ecco ecco la responsabilità io vabbè provo a dire un po' di cose sì ho letto l'asemozione del libro e subito mi era venuto in mente profondo rosso perché poi mi ha confermato insomma però cosa c'è in quel gesto allora noi diciamo che scrivere diventa scrivere però scrivere diventa scrive che è ingrattare cioè la matrice comune del pittogramma della scrittura della scrittura sì sì è ingrattare noi quando scriviamo con la tenna con la matita facciamo un surco nella pagina quando scriviamo su smartcom grattiamo quindi questa matrice comune di voler lasciare insieme mi sembrava significativa in questo testo altamente simbolica il bambino non sa di stare lasciando un messaggio però è probabilmente quella la spinta di dire io adesso voglio estroflettere qualcosa che sta dentro di me e la voglio manifestare poi insomma beh sulla letteratura tante cose che sono state dette e che ovviamente non divino il cotroneo ha detto di recente che gli aspiranti autori provano a imitare chi va di moda nel momento quindi se sono già lì anziché espirarsi magari a carta o chi ti adoro poi sì sulla letteratura come sull'importanza nel libro credo molto Andrea Carrara anche un altro scrittore che ammiro e con lui parlai Andrea? sì parlai di un racconto di Vega Tentazione che pure parla di un nostro un progetto sì sì e vabbè insomma poi certo il lavoro editoriale è complesso perché il libro il libro gadget comunque un senso il vibraio deve vendere quindi insomma è chiaro che ci sono tante cose tanti prodotti sono d'accordo però sul sull'onestà e anche di essere un po' più intransigenti perché è vero che di vero che indeloga poi si conghi la mia pasticcia per me è una lotta stare nell'editoria e come dire respingere dei testi a provarne degli altri è veramente una lotta però vabbè sono coraggioso io sono un greco un romanzo in cui i bambini lasciano delle tracce non in maniera casuale ma assolutamente di proposito era un modo per dire che loro continuamente provano a parlare con noi in tutti i modi in cui la comunicazione può essere può essere manifestata tutti i canali con tutte le possibilità che hanno e che gli vengono date la nostra censura è così preventiva a cominciare dalla mia perché se in qualche maniera dovessimo diciamo così renderci conto di questo vuoto assoluto in quell'esatto istante si manifesterebbe la gigantesca dimensione del nostro fallimento cioè del fatto che non siamo più esempi maestri riferimenti che non sappiamo più dire e insegnare delle cose ecco anziché ammoinarci diciamo così su questa su questa realtà preferiamo andare oltre ignorare totalmente quello che c'è e partire da quel momento da quel momento in poi con azioni diciamo così narcotiche gli smartphone i tablet eccetera eccetera cioè stai qui non ti muori io vado avanti faccio la mia vita fa tutto bene nel senso che che Dio mi perdoni lo faccio anch'io e l'ho fatto anch'io il punto vero è un altro era dall'alto scusami dal bassissimo di quello che faccio e rappresento un solo strumento a chi scrive io avevo questo per poter in qualche maniera dire scusa ai bambini o ai come dire all'infanzia verso le quali stiamo producendo i danni inerrabili avevo solo questo strumento quindi in qualche maniera quello di dire scusa per tutto quello che diciamo sì non ho fatto in tempo a vedere o che in qualche in qualche circostanza non ho voluto vedere ecco non mi sottraggono mi salvo da questa deriva gigantesca questo volevo grazie grazie Davide grazie a Vanda Varasco grazie a tutti voi grazie a Davide Grittani la bambina dagli occhi d'oliva Arcade Editore grazie per questo per questo incontro bellissimo Davide vorresti chiederti una cosa sì io sono un po' egocciente quando leggo quando trovo la mia vita nel libro va bene bello ok e ti chiedo potete abbracciare si salutiamo un attimo così grazie a te grazie Vanda grazie grazie io ti chiedo grazie Vanda sinceramente perché qui ho avuto una botta di verità la verità che tu hai nominato prima no? l'Alzheimer e tutto ok quella fra l'idea Gerica allora a mia madre che forse ha ritrovato un pezzo di memoria a lei che potrebbe ricominciare senza scalzare altri fantasmi a me che annego nella mia vita da dove hai preso poi la forza per continuare a scrivere e quanto tempo ci hai messo dato che io mi sono inchiodata sul divano mi sono annullata completamente nella mia vita tu per continuare la forza da dove l'hai presa perché qui è praticamente è poesia grazie io mi soffermo solo quando incontro la forza in un libro il libro è scritto in tre anni ed è un tempo più o meno più o meno onesto diciamo così per chi vuole impegnarsi in una cosa così ma c'è gente che lo scrive anche in meno nel senso dipende anche molto dalla frequenza nella fattispecie io vivo un'esperienza diciamo così personale di mia madre che in qualche maniera non ha non ha una forma di demenza ma una forma di distacco diciamo così dalla memoria che Dio le voglia beh straordinariamente letteraria nel senso che poi in qualche maniera diventa marchesiana cioè si ricorda delle cose di cui si vuole ricordare e si dimentica delle altre quindi in qualche maniera e quindi in qualche maniera così c'è questa piccolissima finestra di Marquez che è straordinaria nella sua nella sua feroce poesia la gente non non muore quando deve muore quando vuole lo so e che è un modo di dire che c'è un modo di distaccarsi dalla vita diciamo così in maniera del tutto autonoma di cui noi non ci rendiamo conto ci sono proprio degli strappi dalla vita degli uomini e dalla terra degli uomini di cui noi non ci rendiamo conto andando avanti poi proseguendo per molti anni eccetera però c'è un momento c'è un cairos diciamo così che difficilmente riusciamo a individuare grazie grazie a te grazie a te grazie 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 a voi grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te